E ragazzi prima di iniziare vi volevo dire un paio di cose, prima di vi volevo chiedere di lasciare un bel mi piace, cerchiamo infatti di superare i 5.000 E come seconda cosa vi volevo ricordare di passare da uticoinbank.com se siete interessati a comprare di FIFA e utilizzate come discount code o come codice QBOL il codice Axel con 2 per avere un interiore sconto, link in descrizione E ciao a tutti ragazzi, io sono Axel, oggi sono qui a presentarvi ragazzi finalmente il nuovo pack opening e ragazzi pack opening relativo ai team of the season E ragazzi oggi, oggi riceveremo una risposta dal signore, poiché infatti no, sembra abbastanza religiosco che cosa, poiché infatti oggi se dopo questo pack opening io non troverò neanche un toz Cioè, capirò che la sfiga mi perseguita in una maniera stratosferica, poiché infatti ci sono stati youtuber che ne hanno addirittura trovato i due, se non tre in un pacchetto E io ho detto, eh no, eh no, eh no, questa fortuna la voglio avere anch'io, quindi ragazzi oggi siamo qui, siamo qui a pronti a trovare o meglio per trovare il mio primo team of the season Poiché non ne ho trovato ancora uno, io sono pronto, voi ci siete, andiamo ad aprire questi pacchetti Allora, ho visto ora che sono i pacchetti promo da 25.000, chissà, chissà se in uno di questi non troveremo mai un toz Ripeto, non ne ho mai trovato uno, probabilmente non ne troverò nessuno, però c'è da dire che ho 1.105.000 crediti Quindi questo pack opening può anche durare relativamente poco, speriamo di no Allora, ci siamo, siamo pronti, foot 15, vediamo dai, ecco, iniziamo Troviamo Isco, ma nient'altro, nient'altro Dai ragazzi, mi sento veramente carico, perché è scandaloso, un maciello di youtuber ne hanno trovati un sacco Non posso non trovare nessuno, neanch'io Nel caso, troviamo così, troviamo così un informa, paietti informa Cioè, vabbè, io coi toz trovo gli informa Dai 35.500.000 crediti, ovviamente non si vende, però devo essere sincero, non mi sembra male Per un ciocci, statistiche simili sono abbastanza oneste, quindi direi di conservarlo nel club Dai, dai, non c'è l'informa senza il toz, detto proverbiale molto noto Dai, nuovo pacchetto, magari, eh, troviamo ben attimo Magari fatemi sapere nei commenti cosa avete trovato voi, se avete trovato qualcuno di forte Oppure se siete, eh, rimasti ficati come eravate Qua non si guarda, stiamo andando, anzi no, guardiamo Oddio Diego Lopez, stiamo trovando tutti i giocatori sopra l'82, però non ancora quello Che fa sentire la presenza Dai ragazzi, c'è gente che ne ha trovati due Oh, non prendiamoci il giro No, non riesco Oh, io saprò che a fine di questo video pioveranno madonna, perché non ne trovo da niente Allora ragazzi, stiamo calmi Stiamo calmi perché qui ci stiamo un po' troppo agitando Col naso The noise pack ragazzi, dai Non l'ho ancora trovato Il mio obiettivo è trovarne uno minimo a settimana Però se troviamo gozze che vale 86, non tots che vale 85, il crimine sale Ce la facciamo, credo Si, dovremmo farcela La matematica non è un'opinione, Barzai Non arriva Ragazzi, vi devo chiedere un favore Vi devo chiedere un favore, poiché infatti dovete lasciare adesso un bel mi piace Così si basa sulla fiducia a questo video Se voi lasciate un bel mi piace, io troverò qualcosa Ve lo posso assicurare, poiché c'è una sorta di nesto logico tra pacchetti mi piace Quindi, tu, tuo visualizzatore, lascia in me piace adesso E dai che troviamo anche noi qualcuno Non è vero, troviamo i guain, boia di un giuda Io so già che questo video finirà a essere l'unico youtuber Che ha speso magari anche più degli altri senza trovare assolutamente nulla Qui No Io spaso Dai un toz, che lini, dammelo sto toz Non può non essere una coincidenza No, 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 troviamo i raias Ma che schifo Un 76 Ma non esiste Allora, vogliamo trovare qualcuno oppure no? Dai Dai, un blu Un'altra ancora paillè Troviamo, ma stiamo Scherziamo Due in forma, due uguali No, ragazzi Non è umana sta cosa Non è umana Io voglio trovare un toz Dio calcagno Dai, facci trovare qualcuno Ti prego Dai, ho cinque pacchetti Fammi vedere sto blu Young Ma young a te 3 è il numero fortunato, ragazzi 3 è il numero fortunato 3 è il numero fortunato 3 è il numero fortunato Eh, sì No Madonna Stavo per spacciare il nuovo telefono Stavo per spacciare il nuovo telefono lanciato No, oddio La preoccupazione è salita 3 è il numero fortunato Troviamo il nostro primo tot Il nostro primo tot Sperare che c'è il primo di la prima serie Clasie CC Jordi Clasie 81 Costerà sino 10.000 crediti Ma non l'abbiamo trovato Cioè, ragazzi Mi si è fermato il cuore Quando ho lanciato le cuffie Ve lo posso assicurare Comunque ce l'abbiamo fatta Primo pacco opening Due in forma Un toz Devo dire Vabbè, abbiamo speso 500.000 crediti Quindi ce l'abbiamo perso sicuramente Ma le prospettive sono buone per il futuro Possiamo così definirla Intanto, secondo pacchetto Merde Sacre O meglio, penultimo pacchetto Merde Sacre Ultimo pacchetto da 25.000 No, vabbè, buffono Ho avuto tutta la Juve 6 volte Comunque, ragazzi Io sono sincero Non voglio spendere troppi crediti Appunto Per andare a aprire questi pacchetti Per questo Team of the Season Perché so già che a breve Usciranno quelli magari Delle altre lighe Quali magari Serie A Liga Neopremier Perché sono davvero Ma davvero Molto interessanti Quindi punterò Ad aprire molti più pacchetti Diciamo con questi Team of the Season Rispetto che con questi Quindi direi subito Di adesso Di andare ad aprire L'ultimo pacchetto Spero che intanto Il video vi sia piaciuto Ma credo di sì Ci siano tenuti un po' di compagnia Chiudiamo gli occhi Se non l'avete ancora visto Andate a vedere il video di ieri Che è relativo alla mia camera E li dappiamo Adesso E ovviamente Non troverà nessuno Però la cosa poco importa Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Cerchiamo di superare i 4000 Anche per questi due giorni Di fila di video Che mi sembra abbastanza Una cosa onesta Detto questo Quindi non ho più da dire Vi saluto E dico potente Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti